Ho imparato a suonare l'armonica a mano, che però, con la faccia questa, che tra passamontagna, casco, guanti, sovraguanti, non riuscivo più a tenerlo in mano. C'era un dito solamente fuori per tirare il grilletto della mano destra e basta per il fucile. Allora, per questo sveglio, io ho imparato a suonare l'armonica senza mani. Allora... Capito?